Ma salve, era da un bel poca, non ci si parlava veramente faccia a faccia Allora, oggi siamo qui con un video particolare, è una tier list Ma non è dei personaggi di Dragon Ball Non è dei personaggi di qualche serie che vi piace Sono dei personaggi di Sailor Non so neanche cosa sto facendo di questo canale ormai Sono in una crisi dove non so cosa fare della mia vita Non dormo da almeno 4 giorni Non mi giudicate Allora, recitiamo una cosa Almeno la prima serie di Sailor Moon non l'ho vista L'ho sentita Nel senso che me le mettevo in sottofondo mentre editavo Quindi alcuni dettagli non me li ricordo Tranne alcuni che ci arriveremo Unico problema Non mi ricordo dove dei personaggi Sì, sto facendo questa roba perché non so più cos'altro fare su questo canale Metà delle idee mi erano contate a fanculo Quindi, cominciamo Allora, lui si chiamava... Aveva un nome francese Quindi, vaffanculo in F No, no, dai Allora, se non ricordo male Questo personaggio era un alieno Venuto dallo spazio insieme a sua sorella Classificavano insieme Eccola Dopo 8 ore l'ho ritrovata Allora, loro due dovrebbero essere due fratelli e sorella In teoria, non proprio Sono la cosa più vicina a fratelli e sorella Tipo Goku e Vegeta più o meno Non sono di sangue però La cosa più vicina alla fratellanza che hanno Perché la loro razza è distrutta Sì, sì, tipo Goku e Vegeta insomma Però il loro arco carino Dura tipo 10 episodi Non viene dato molta importanza Però, alla fine Era ok Una bella D La trovate interessante Però mi aspettavo che aprissero il dibattito da Ok, voi non volete Che andiamo in giro ad assorbire l'inergia alla gente Lo capisco Non è proprio una cosa bella da fare Però ho così un muoio di fame Quindi che cosa dovrei fare? Scusami Mancherebbe il terzo Ma non c'è in questa classifica Quindi Oh, Fantasia Un personaggio della quinta serie Di cui ricordo Lei su un aereo e basta Allora Io ho già messo in Esiste Tutti i personaggi Inutili Questo dovrebbe stare qua Tutti i personaggi inutili Da un episodio Che non ha avuto molta rilevanza Se poi già mi Mi cominci a buttare altri personaggi Un po' inutili Non è da esiste Perché comunque te la ricordi Ma non fa così niente È il classico personaggio Che Scopre la vera identità Della protagonista Ma muore tipo 5 secondi dopo Quindi Completamente inutile Non sei riuscito a fare il tuo lavoro Te lo concedo però La sua compagna Che serve Vulcania Grazie a te Salita di un Di un gradino Perché le hai dato Un po' più di rilevanza Congratulazioni Qualcosa di giusto L'hai fatto dai Oh Parcominciamo subito Benissimo Una delle 5 Disadattate È una scelta difficile Perché Verso la Quarta Quinta serie È utile Quanto qualcosa Che non è utile Non mi veniva in mente Un paragone Però In confronto a tutti Gli altri personaggi È forse quello che ha fatto Un po' più di roba Cioè del tipo che Quando Sbloccavano nuovi poteri Con lei invece Si impegniamo di più A fare un'episodio interessante Non è proprio Un bel personaggio Ma tra tutte È probabilmente Uno dei migliori Scritti in modo Un po' più interessante Solo questa cosa Delle sue turbe Del Perché fa così Ma porco cane Windows 11 Che problemi hai Questa sua gelosia Secondo me Doveva tornare più spesso Perché lei è gelosa Del Della vita della protagonista Che Quindi in teoria Avrebbe questa Questa voglia di Cambiare vita Vivere con una famiglia Più felice Però non l'ha avuta Molta importanza Quindi mannaggia Sennò era un presagio Scritto Quasi bene In Sailor Moon Aspetta Questa forse Me lo posso ricordare il nome Ce l'ho qua vicino Vediamo se mi trovo Ok Ho il manga qua Nelle vicinanze Bertier Ve lo ricordavo Non l'ho assolutamente letto Da qualche parte Lei dovrebbe essere La controparte La classica controparte Di Di Emi Ho detto Il nome Emi Giusto La classica Ah io sarei in teoria Ci sono quattro nemici Precisi Per ogni membro Così che vi teniamo occupati Per il combattimento finale Potevano farci Un po' di meglio Cioè quando è cattiva Ci sta È un bel personaggio Sa fare il suo lavoro Però quando diventa buona No No Non ci siamo Perde tutta la personalità Queen Beryl È il primo cattivo E secondo me Fa il suo lavoro per bene Ti mette subito In testa Come sarà più o meno La storia da qua in avanti Dopo la prima serie In teoria doveva anche essere l'ultima Non è che sia tutto sto grandissimo personaggio Però La metterei in A Per come è scritto Però c'è sta cosa che Ti metti subito I paletti Come sarà questa serie Alcuni saranno così Hanno delle motivazioni Un po' stupide a volte Ma hanno delle motivazioni Porco cane Non puoi mandare L'unico che può tradirti Contro Le persone Che 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 vorresti uccidere Non ha senso Però Vabbè Ne glielo concedo Ho un altro Pezzo dal 90 No non dovrei dire queste frasi Suonano molto male Allora Lei sarebbe Black Lady La prima volta che ho letto il suo nome Sono scoppiata a ridere Signora veramente Donna nera E non è manco nera E che c'è da dire Su questo personaggio C'è lo spacco E i tacchi Chiaramente Sa Sa fare il suo lavoro Perfettamente da cattiva Era un po' quello che cercavo in Beryl Fatto Meglio E soprattutto È una delle Forse Un'unica volta In cui effettivamente Un buono Posso dare la parte dei cattivi Secondo me Potrebbe essere fatta Anche un po' meglio La sua trasformazione in cattivo Un po' qualcosa La Doppio diavolo Ma Ci sta Ci sta Ed è pure buona Porco cane Abbiamo Lei Un'altra delle quattro sorelle Tu perché esisti Onestamente No F F Non me ne frega niente di te E sei più inutile di fantasia Anzi Sai che ti dico To Qua ti meriti di stare Giù E Diretta alla E Perché non hai fatto niente Almeno Loro hanno fatto qualcosa in più Ma tu proprio zero Lei dovrebbe essere L'ennesima Controparte Di uno Dei personaggi Protagonisti Solo che Non ha personalità Non ha niente Fa Quasi nulla La prima sorella Che sarebbe Koan Vi ricordo È probabilmente la migliore Scritta un po' meglio La seconda Che è lei Già mi sono dimenticato Il tuo nome Mi dispiace A meno Quando è cattiva Qualcosa lo sa fare La quarta È l'esatto opposto Quando diventa buona Qualcosa lo sa fare Lei invece non fa niente È l'esatto opposto Di Koan Né da cattiva Né da buona Ti dice nulla Allora Perché esisti Se qua stiamo sciupando Più personaggi di Dragon Ball La situazione è molto grave Ah È Diana Si chiama Diana Stavolta me lo sono ricordato E che c'è da dire Non ho letto la quarta e quinta parte Quindi non saprei dirvi Se è importante Nell'anime vecchio Non lo è Quindi va abbastanza in F Insieme alla madre Hanno più o meno lo stesso ruolo Solo che In teoria la madre Non sarebbe mai dovuta essere importante Diana in teoria si Non so se lasciarla in F La madre Perché Ok che non fa niente Però non deve farne niente Non è un presugio importante Ma si dai lasciamo là Tanto si può sempre cambiare Ma ci tagliamo subito i gatti Ma non erano tutti in ordine alfabetico Vabbè Luna Luna Allora Nelle prime Tre serie Luna È Va Mi dispiace per lei Non so come altro dirlo Di avere a che fare Con quella disattata Della protagonista Cerca sempre di Dirle no Di fare così In questo modo Puoi sopravvivere E la protagonista Che piangeva È lei Che si chiedeva Ma perché mi pagano Per fare questo Anzi Non la pagavano nemmeno Non la pagavano nemmeno Cioè Tu Tu Metti la mia compassione Stai in A Perché Per avere a che fare con Usagi E non venire nemmeno pagata Cioè Devi veramente avere la pazienza Di un angelo La metterai in S Però Nella quarta e quinta Non è che faccia più di tanto Un po' inutile E poi c'è la cosa Che la trasformano in umana Perché si Faceva figo farlo Roba è a caso Perché si Semplicemente Non mi sta bene Che A quel personaggio Hanno avuto La grandissima idea Di trasformarla in umano Senza alcuna ragione Che è a livelli Della quarta serie Praticamente E la loro la fanno Alla prima Senza neanche Usare i poteri È strano Che l'abbiano Messo così Non c'era motivo Era troppo a caso Un minimo di sviluppo Voleva la pena Rimetterlo Stai in A Ha fatto la sua funzione E poi Se n'è andata E qua La gente Mi urlerà contro Perché qui abbiamo Artemis Che sarebbe La versione Maschile Di Luna Ed è Ed è uno di Bro È uno di Bro Skis Subito in SSS La gente Mi lo dirà Per questo Io lo trovo Isilarante È utile Alla sua utilità Anche la relazione Particolare Che ha con Ma No non mi ricordo Come si chiamava Con Venus Chiamiamola Venus Perché sono i più Memorabili Probabilmente È Fatto bene È interessante Perché sto Non vorrei dire Fratello E sorella Però è una cosa Sibile Cioè Si parla Ogni tanto Ottima idea Ah abbiamo I due corvi Fibas Non mi ricordo Allora in teoria Nella serie vecchia Non gli hanno dato rilevanza Ma loro in teoria Dovrebbero essere Delle mezze idee Che Rea Rei Re Portava spesso con sé Che la Proteggevano in teoria In Crystal E nel manga In teoria Hanno una rilevanza Dove si presentano E dicono Noi siamo Delle mezze di verità Che fanno queste cose E voi vi chiederete Ok ma che rilevanza Hanno nella storia Ecco quale Anzi no Via Non vi merito Di esistere Questo Credo sia Chaos Non vorrei dire Cazzate Ma credo sia Chaos Si E' Chaos Allora Non ho Visto la parte 5 Solo Dell'anime vecchio Del manga Non l'ho visto Di Crystal Non è ancora uscita Per il momento Mi è piaciuto parecchio Il discorso finale Dove Chaos Era presente Il male E se lo romano Il bene Quindi all'inizio Mi aspettavo Ok Il bene Sconfiggere il male Invece no Incredibilmente no Avevo fatto tutto Un bellissimo discorso Dove in teoria Da qui Che ho capito Non l'hanno Sconfitto Ma semplicemente Ci hanno imparato A conviverci Tra virgolette Perché Non può essere Sconfitto il male E' una cosa che Ce l'hanno tutti Tutti quanti provano E proveranno per sempre Quindi semplicemente Ce l'avrai sempre Ma Devi imparare Non dico gestirlo Ma Si a gestirlo A tenerlo Più o meno A tenerlo sotto controllo Un po' come Stime universe E' tipo una cosa del genere Secondo me ha fatto bene Il suo lavoro Si no Io parlo soltanto Dell'anime vecchio Quindi non so Se dicono delle cose Nella quinta serie E delle altre parti Carissimo Marzio Milord Tuxedo Mask Tuxedo Kamen C'ha mille Mila nomi Come lo posso dire Questo personaggio E' brutto Non No E' brutto come personaggio Non ci stavo per niente Se loro muterebbe Una storia romantica Allora mi spieghi Perché Cristo e Dio L'intera serie La prima serie Che dovrebbe essere Quella più incentrata Sulla relazione romantica Non ha niente Di romantico Pure Nella seconda serie In poi Cioè non è che sento Questo forte legame Ma neanche del manga Anche se là Si capisce un po' di più Ma non sento Un legame tra loro due Che dico Oh si Che bel romanticismo Che bella Ispressione Della natura Di sentimenti No Semplicemente Si vogliono bene Si ma non ho mai visto Perché dovrebbe Nascere una relazione Poteva dare Tantissimo di più Non gli hanno fatto fare Assolutamente niente La gente mi dirà Per questo Ma è la verità Lei Non posso classificarla Perché non ho capito niente Lei Fa sempre parte Della quinta serie E non è stata esplorata Più di tanto Da qui che ho capito E con attenzione Perché sono spoiler pesanti Lei dovrebbe essere La Usagi Di un futuro alternativo Che non è riuscita A sconfiggere Chaos È tornata nel passato Per aiutare La Usagi Del passato A sconfiggere Chaos Per poi tornare Nel futuro Con la speranza Di riuscire A sconfiggere Chaos Non ho capito Quindi facciamo Che la mettiamo Come Esiste E poi Ne riparleremo Quando l'avrò visto Chi bi usa Qua non ne ho messi due Penso che sia tipo Parte 2 Parte 3 Perché da parte 3 E 4 Ci dovrebbe essere Della differenza Ma non l'ho vista Quindi per me La metterò Come unico versoraggio La gente ha detto Che è il peggior Personaggio di sta serie No ragazzi Ma può per niente Cioè ok Non è tutto sto granché Ma qualsiasi personaggio Che prende per il culo La protagonista Per me E merita una A Sì Forse le motivazioni Per cui ha deciso Di scappare Quelle sono un po' Un po' così Un po' Un po' meh Poi devono fare meglio Mi piace comunque Che nel manga In crystal Se non sbaglio È stata tipo Manipolata Per prendere il cristallo E l'avevano tipo convinta Almeno là Aveva un po' più di senso Dicevamo Lui è il consigliere Il consigliere Devo dire Soprattutto la parte La parte 2 Un po' la parte Non è che sia stata Tutto sto granché Ma devo dire che I cattivi erano Buoni Non ci stavano Erano belli Nella serie vecchia Perché in crystal E nel manga Scricchiano No peggio di una porta Senza olio Perché Sono terribili Facciamo che parliamo Stattamente di quelli Nell'anime Vecchio E siamo tutti d'accordo Il consigliere O Wiseman È un bel personaggio Un bel twist villain Alla fine Perché È una È una bella escalation Che passa da Questo è un personaggio Così Che sicuramente Sarà tipo Zirconia No Quei personaggi lì E poi invece diventa Un personaggio Molto più profondo E importante Peccato che poi Non ci abbiano spiegato Molto più di lui Ci sarebbe stato Ci sarebbe stato Tantissimo Ci vuole un'eternità Per strozzarti Tutto qui Quello che sai fare A dire la verità Perdolo Perdolo E a proposito di parte 2 Diamond Beh che dire Ho già detto che I nemici di parte 2 Mi piacevano tantissimo Oh Ah si no SS va bene SS va bene Fascetta rossa No 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 Scherzavo Lo so che Le motivazioni Per cui odia La protagonista Non ci sono Non esistono Ma non mi interessa L'ho adorato troppo Per qualche ragione Mi è piaciuto Particolarmente L'attaccamento Verso Zafir Che era semplicemente Un amore fraterno Tranquillo Niente cose strane O esagerate Semplicemente A un certo punto Comincio a dubitare E ci sta Anche perché Nella serie vecchia Probabilmente Lo fanno più passare Come un Uno che non sta bene Psicologicamente E in effetti Rapisce Denuta la protagonista La ripeste Con dei vestiti Che vuole lei Ok forse Non sta proprio bene Psicologicamente Però Però È un bel nemico Funziona per me Funziona da dio Funziona veramente tanto Ecco un nemico Invece che non funziona Benissimo Funziona poco Funziona molto poco Per me Endymion malvagio Sì lo so Questo è Endymion malvagio Non si capisce ma Perché c'è anche Questa immagine Ma se notate bene Le linee sono un po' Un po' più dritte E questo vuol dire Che è cattivo Non ha senso ma Va interpretato così Ma per lo più Perché era palese Ma proprio palesissimo Come sarebbe andato a finire Il personaggio Però ci sta Alla fine Che l'hanno voluto Trasformare Con la manipolazione Mentale E poi solo dal servizio Della Di Beryl Non perché È forte Che perché Da si è forte Ma per lo più Perché era Assessionata da lui E lo voleva Il primo Semplice di Andere Soltanto che Alcune volte Per salvare Le protagoniste Era proprio Forzatissimo Perché a volte Si capivi Che aveva questo Dualismo Del Devo proteggerle Il Non devo proteggerle Ma A volte era proprio a caso Completamente random E nessuno faceva niente Cioè ma Porco cane Ma ucciderlo E diventarsi Che sono state le sello Non ucciderlo Aveva avuto più senso No Va bene E poi abbiamo Indimion Mi piace che Prenda fortemente Ispirazione dalla Legenda di Indimionte Perché Serenity E Indimionte Sono esistiti Veramente Nella letteratura E quindi Questo mette Un gradino Sopra Marzio normale Oh Questa tier list Mi vuole proprio Rendere felice Abbiamo messo In SS Quella perché Era buona Mettiamo anche questa Però Una cosa negativa Non è che avessi Tutta questa Grandissima personalità Quindi la metto Una bella S In realtà È da Perché proprio La personalità È anche peggiore Di quella di Beryl Non posso Non adorare Un nemico Che si trasforma In un drago gigante Cioè Vuoi mettere Vuoi mettere Tu in cosa ti trasformi Scusa Levati proprio Occhio di pesce Anche detto Sono un maschio Una donna Del trio amazzonico Ho già detto Che mi piace parecchio Ed è quella più caratterizzata Quindi Ah Ah Smeditata Una pulita Liscia Ormai La è come il set A scuola Quando lo prendi Dici Oh Pofoso Ci sta Unpopular opinion Se lo galaxia Non è che sia stato Tutto sto Gran che La gente dice Ah il miglior nemico Di sto set No Non è molto bello Non ho letto manga Non ho visto la parte 5 Come ho già detto Quindi non lo so Cosa dicono Quindi lei Per me Va In Non è Da voto basso Ma neanche da voto alto In B In B di Beh potete vedere di più Oh E questo si che è un bel personaggio Allora A livello comico Questo personaggio da Immediatamente È il nonno di Rea Ed è caratterizzato Molto Meglio Di metà del cast Com'è possibile Sta cosa È un personaggio di sfondo Per la trama In teoria Non fa niente di importante Sarebbe uno dei Sette Cristalli Arcobalino Filler Strani Però boh Non ha veramente avuto importanza Però adoro L'odoro troppo Questo vecchietto Dai Ride Si porta Il finanzato di Rea Con sé Per farlo provare Con Altre ragazze Io non Lo adoro E basta Ancora chi più Ma quante volte La devo togliere Da qua In teoria sarebbe Quella cresciuta Ma F Assolutamente Passiamo questa in E Perché non se lo merita Di stare qua Cioè Lei Dovrebbe avere importanza Lei L'avevo vista per tipo Cinque secondi Secondo te Deve do importanza Quindi Lui Occhio di falco Stessa cosa Sono stati bei personaggi Però un gratino sotto Perché ha avuto Meno rilevanza Di Occhio di pesce Quindi In una bella B di Bello Oh abbiamo qui Pegasus Nella sua forma umana Però Anche se il teore Al suo nome non sarebbe Pegasus Però Preferisco il nome Pegasus Elios Allora dove lo mettiamo Non è Pessimo Ma non è neanche Un gran personaggio È un Ok Poteva dare Molto di più Lui l'ho sempre visto Come il È un po' È un po' particolare Cioè ci stiamo Poteva dare Parecchio di più A parte che non ho capito Manco quando è nato Sto tizio Perché cioè E infatti viene tipo Bolestato da Nellenia Che Chiamate Chiamate la polizia Sto qua Ce avrà 12 anni Quella ce ne avrà Tantissimi Otaro Allora Facciamo un voto Per tutte Per sia Crystal Che il manga Che L'anime Dei L'anime vecchio E Lo adoro Non so che altro dire Mi dispiace Veramente tanto Perché Alla fine vedi La sua storia Che alla fine Era veramente Traumatica Come vita C'è chi dice Perché dà un po' Di fastidio La mano No no Perché le impiantano Pezzi di metallo Nel corpo Perché altrimenti Non reggeva Ho preferito La serie Di Crystal Come terza serie Rispetto alla 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 terza vecchia Questa volta Invece di accacciarsi Un attimino a terra Aveva una perdita Di zuccheri Come faceva Nella serie vecchia Qua È molto più grave La situazione Si sente veramente male E te credo Guarda com'è ridotta Sta guaraccia Per la questione Delle incidenti E poi è un po' Sessata E in teoria Ci sarebbero Tipo tre personalità Quella di Otaru Quella che serve umana Che è cresciuta Comunque da umana Quella da Sailor Saturn Che è comunque Una personalità Diversa da quell'umana E quella Di Mistress Nine Che è un'altra Personalità ancora E mi è piaciuto Che alla fine Sono entrate un po' In contrasto Con tutte queste Personalità Mi sarebbe piaciuto Mi sarebbe piaciuto di più Se avessero fatto Vedere spesso Una spaccatura Tra Otaru Che magari Passa del tempo Con Kibiusa Che ha avuto Meno momenti Di quelli Che avrei potuto vedere Ma ci sta Tantissimo Anche così Magari una spaccatura Tra il suo personaggio Da normale Quindi sempre serio Perché alla fine Di questi personaggi Seri e svegli Ce ne avevano tantissimi Nel cazzo principale Meno magari che Sa scherzare Quando ce n'è bisogno Ma proprio che sia Una spaccatura Che si veda In modo molto profondo Che passi da 0 A 100 in un secondo Però anche così Va benissimo Topo di ferro Cuore di ferro Non ho capito Come si chiami Esattamente L'ho già detto prima I nemici della quinta Non mi fanno appassionare E lei è quello Che dovrebbe andare Più in basso Le hanno dato Molta meno importanza Anzi no Non è quello Che va più in basso Ci sta Ha dato poco Però c'è avuto Quei piccoli momenti Tipo lei Che scappa dei telefoni O lei Che si vede Di tanto Qualche sua passione Simile a un altro Personaggio Pronto Io sono Ellie Io sono Zebo89 È quasi Ok Poi Ritorneremo Quando parleremo Dell'altro personaggio Che va più in basso Ma Lui È Dio Non è difficile Ricordarsi un nome È uno dei primi nemici Anzi Il primo nemico E lo metto in S Perché ha funzionato Perfettamente Sapevano come Non rovinare Questo personaggio Riesce a mettere Le Desserti una situazione Di pericolo Ti fa capire come saranno Gli scagnozzi Da là in poi È la stessa Costituzione di Beryl Li metto al pari Ovviamente Ha più rilevanza Beryl Ma è inutile dirlo Koan Che dire Tra le Quattro sorelle È quella Scritta un po' meglio Una bella Perché la sua Ritenzione È credibile Non me l'aspettavo Perché Quando ero entrato Dentro Sailor Moon Pensavo Ok Sicuramente La classica serie Dove Ogni cattivo L'ammazzeranno Senza pietà Non avevo Aspettative altissime Quindi quando ho visto Che I personaggi Facevano anche Altre cose Oltre a Venire massacrati Ci stava E poi è bello Come rispetto alle altre Perché Diventare buona E sparire dallo show Ogni tanto ritornavo Facevo qualche piccolo cameo A parte che Era anche abbastanza spietata Se non ricordo male Un bel nemico da cattiva Un bel alleato Da buona Oh abbiamo qua Griffith Capelli lunghi Bianchi Occhi azzurri Bello Intelligente Affascinante Simpatico Vi sbagliate Voi non andrete Da nessuna parte Prepariamoci Dobbiamo proteggere La principessa Servizio Ed è un nemico Che funziona Molto meglio Dindimion Dovrei metterla Al pari di Koan Anzi no Koan in S Perché alla fine È un bel cattivo Sicuramente Scritto bene Insieme a Beryl Se si fossero Alliati seriamente Finiva nell'episodio 2 Probabilmente Era una serie Cortissima Oddio Come si chiamava In italiano Makoto Era un nome Stranissimo Che manco esiste Tra l'altro Sailor Jupiter Mi piace che Nella serie Ti facciano vedere La sua parte Tranquilla Con e con gli amici Però Se tu me la presenti Come Questa ragazza È stata Buttata fuori Della scuola Per risse Io mi aspetto Che prima o poi Questo Questa parte di lei Ritornerà Mi aspettavo che A un certo punto Facesse tempo Di picchiare qualcuno Ma niente Va bene Le darò anche Qualche punteggio In più Perché In teoria Doveva far parte Della Yakuza Che per chi Non lo sapesse È la mafia Giapponese Quindi avrò davanti a noi La mafiosa Ma perché Noia non ho lasciato Che faceva parte Della mafia Giappone Se sarebbe stato Fantastico Probabilmente Tutte le battute Sul padiglino Che potevo fare Questa Credo che sia Queen Metallia È un cattivo Un po' da D Non Non è stato Tanto granché E dovrebbe essere Veramente Lei il cattivo principale Non Queen Beryl Anche nel manga Non mi piace proprio Per niente Come è disegnato Il che so Punti in meno Per me Non me ne frega niente Nell'anime vecchio Non compare Praticamente Rimane Rimane Allettata La tengono in vita Con i macchinari E mi dispiace Perché Poteva dare parecchio di più E abbiamo Nettuno L'ho visto che la gente La trova un po' anonima Ed è vero Perché non è approfondita parecchio Ogni volta La mettono sempre In coppia con Lei E mi dispiace Perché C'erano qualche Dove era da sola E speravo sempre In quel Dai approfondisci Un po' di più Soprattutto quando Suonavo il violino Insieme a A sei Io Mi piace che Stuzzichi gli altri personaggi E ci provi anche Con gli altri Perché spesso Genera situazioni Indivertenti Non è la classica situazione Da La classica battuta Stereotipata Gli altri capiscono Che stanno Venendo presi per il culo E secondo me Ci sta E anche quella Una bella parte Della personalità Ah oddio Come si chiamava questa Questa Faceva abbastanza ridere Mina È una È la Seconda O terza Delle cinque streghe Ed è la Quella caratterizzata Meglio E si merita Cosa le devo dare Una bella P di bella Dai Ci sta Ha fatto il suo lavoro E ha anche avuto una morte Una maledizione Orribile Cioè mi è dispiaciuto Quando l'ho visto Perché È costretta A cadere in eterno Cioè In questo momento Mentre stiamo parlando Sta succedendo questo E mi dispiace Perché È stato Inutilmente brutale E forse Alzerai lei Di una tacchetta Perché se la metto qua Allora lei deve essere Almeno Un gradino di differenza Ecco Dive esserci un gradino di differenza Eh Mistress Nine Prima o poi li dovrò arrancare Non posso scappare Da loro due Mistress Nine Si chiama Mistress È una donna di bel aspetto Io la metto in S Non elaboro più di così Se vuoi dirmi qualcosa Chiedetelo al mio avvocato Adesso scendo giù E non ne riparliamo mai più Va bene Ho fatto cadere In mezza la libreria No vabbè È un bel personaggio È interessante Proprio perché Si ricollega Gadotaru Che c'è questa Tripla personalità E mi piace che sappia È anche sveglia no Sa fare il suo lavoro Per bene Anzi SS Perché alla fine Mi ricorda parecchio Black Lady A livello sia di personalità Che di Personaggio fra un di sé Oddio il cavaliere Della luna Anche chiamato Milord talebano Io adoro di questo personaggio Io adoro di questo personaggio Cioè non è che sia tutto sto granché È la volontà di Milord Di proteggere le altre Ma io ho adorato una cosa Che me lo fa salire per me Me lo fa salire Che la sua musica di sottofondo È sempre la stessa di Milord Però in stile arabo E io non so perché Ma l'adoro sta cosa È un bel dettaglio Anche perché era un retuce di Steven Universe Dove queste cose erano all'ordine del giorno Quindi Bravi Avete conquistato con molto poco Forse P da B che da A Perché non è che sia stato tutto Sto personaggio importante Il cavaliere della luna Ti annienterà Mostruoso essere malvagio Non ho paura di te Affronta la mia spada E perisci con dignità Che Che Cos'è sta roba? Ma scusa È È inquietante Ma cos'è? Ma Ma È È il risultato di Un VHS di FNAF Non ho capito Allora Salve l'immagine con nome Ok Sì ce l'ho Faccio la ricerca con immagini Magari Mi dà risultati Ho cliccato le lettere a caso Perché mi esce questo Carica un'immagine Vediamo un po' Motokis Dad Ma in che senso? Scusa Possibile ricerca collegata Natura divina? What? Cosa significa essere partecipi Della natura divina? La chiesa di Gesù Cristo Ah è Gesù È Gesù Allora subito Subito In In SSS Chiaramente Gesù Con Gesù Non si scherza Ah Ecco Ah ho capito Chi è allora Ma si vede Il padre Cioè questa è veramente L'unica immagine Del padre Ma che traguido Mi ha avuto Quel poveraccio Perché c'era un padre così Ma sembra lo Slenderman A proposito C'è Motoki Non sei stato Poi niente di che Sei scomparso A un certo punto Mi dispiace Perché era Ci stava E' simpatico Anche se era un po' Troppo un pretesto Per fare un triangolo amoroso Che manco ci sei riuscito a farlo Mina Ciao Mina Anche a te Sei scomparsa Però Sei scomparsa con Ubaldo Quindi sei già un po' più Un po' più Se naci Se naci più Ecco Ci sei già di meglio Lei dovrebbe essere Neo Serenity Del futuro Boh Non è che sia stata Poi importantissima Cioè E' quel personaggio Che è importante Però Lo è Dietro le quinte Ecco Non la vedi mai Veramente in azione Ha fatto le sue cose Ma Boh Era un po' Un'occasione Sprecata Per rendere Lei Ciò A cui puntava Lo saghi Del presente Ma non l'hanno fatto Quindi Ce l'hanno fatto Pochissimo Era più Erano più gli altri Che lo comparavano A lei Tipo Chi vi usa Zuissit Si credo sia lui Ed è Tra i quattro Quello con la storia Più interessante Mi è piaciuto che Ti lasciano un pochino Il Ma quello che provi Fernina È amore o rispetto Perché Non è proprio La stessa cosa Anche perché C'ha due Guaglie cubiche Per mettersi in mezzo A creature In mezzi divine Per pararlo Almeno io Ho provato a vederla così Potrebbe essere amore Ma potrebbe anche essere rispetto Per Per la persona in generale Che non l'ha mai abbandonato Anche se Era In fin di vita Ed era pericoso Stare vicino a lui Non credo che fosse Proprio veramente amore Penso che fosse più rispetto E Secondo me è reso bene È reso bene A meno per come l'ho visto io Abbiamo qui Palapala Che se lo ricordo male Nel film Di Crystal è anche l'unica Che fa qualcosa Tutti i dati Non fanno nulla E non ha capito perché A livello di caratterizzazione Niente È una bambina Che è rimasta bambina Fa il suo lavoro Va in B Non c'è molto da dire È quella che ha fatto Un pochetto di più E a proposito E a proposito Siccome Ci stiamo Tu vai In C Anche tu Hai dato Poco Ma hai dato Pegasus Stavolta Ha trasformato Digi Evoluto È molto anonimo Da umano In effetti Da cavallo Invece Ci ha regolato alcune perle Tipo Tipo un cavallo Quarantenni Che si dimonda A una bambina Anzi le bambina Le metto subito Bene in vista Lei è una razza Per abuso di minore Perché la Piedo zoofilia È sempre Dietro l'angolo Non so quale fosse La morale di quell'episodio Facciamo che Non parliamo più Di questa situazione Che è imbarazzante Oh abbiamo L'ultima delle Quattro sorelle malvage Come avevo già detto Lei era Quella Che si legava A Zafir E Insomma Loro due per me Sono l'esatto opposto Lei fa di più Da cattiva Lei fa di più Da vola E siamo tutti d'accordo Oddio un porco spino Sonic Ti 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 ho lasciato Che stavi bene Che ti è successo Dove 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 Mettiamolo Mettiamolo basso Perché no Non mi piudo Ma si Proprio F Sono terribile Me lo sono rimosso Dalla testa Ora che ci penso E lo guardo Molto più da vicino Questi cosa dovrebbero essere Questo sembra Una cattura di Lovecraft E' talmente brutto Come la fame Che non riesco a capire Cosa sia Forse è l'albero Non lo so Abbiamo qui Nemesis La regina serenity Mmm Questa è una cosa Un po' delicata Perché Dopo Ci sono rimasto male Che dopo la prima serie Ci sono rimasto male Che dopo la prima serie Non lei non ritorna Lei non esiste Nella serie rifatta In Eternal Fanno anche Diversi flashback Con lei Quindi l'hanno dato Più importanza Rispetto alla vecchia serie Quindi GG Me l'ha fatto risalire Un minimo Come personaggio Quindi fate che sia Più Bulto più alto Di dove l'ho messo io Una bella C E passa la paura Oh E' tempo delle opinioni Impopolari Cosa nel passo Della quarta serie Che non è Che sia proprio Tutto sto granché Gli segni so belli Le animazioni so fatte meglio Dispetto ad altre serie Ma non mi va giù Tutto qua Quindi la metterò In Beh ho appena detto che Eh no La metto in SS Anzi In SS Perché secondo me E' un cattivo Fatto bene Cioè per Buona parte della serie Sta dietro uno specchio E non fare niente Ma quando salta fuori dal letto E fa Ok è il momento di Prendere ammalate qualcuno Lo fa bene Lo fa bene Prende ammalate la gente Mi è piaciuto anche come Eh alla fine E' l'unico Uno dei pochi Cattivi principali Svegli Perché Sa come prendersi cura Di tutti i temici Li manda tutti In posizioni diverse E li attacca singolarmente E poi Quando la protagonista Rimane sola Praticamente la Manipola Non so Non ho capito bene Cosa faccia Le fa delle illusioni La manipola Cerca di Farle perdere la speranza E altre cose Mi è piaciuta anche l'idea Di far camminare La protagonista Sopra Tipo filo spinato Sopra delle spide Non si è capito bene Per Chilometri di scale E' proprio Stai dirmi allo stato puro Uno d'oro Stai dirmi allo stato puro Mister S9 Lei Sì mi sa che devo cominciare A prendere un appuntamento Dallo psicologo Perché mi sa che sto Vedendo aspetti di me stesso Che non avevo mai notato A parte No vabbè A parte gli scherzi Ottimo Cattivo Mi si fa che non piaccia a molti Micchia Se continuo a dire SS Mi bloccano il video Re 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 Mars Mars Abbiamo Mars So che un sacco di gente piace E piace anche a me Come personaggio E poi ho detto prima Tutti quelli che percurano La protagonista Per me Sono almeno da S Mi ha fatto ridere La scena Dove Sentendo un fisichetto Che suonava la protagonista Lei subito corre Perché si prepara In caso di attacco nemico Ottima mossa Mi avete chiamata Mi avete chiamata Vero Non è stupida come le altre Sa fare il suo lavoro Anzi sai che ti dico Una bella SS Anche lei E non perché è rossa Non perché si veste di rossa No No Non è per quello Youtube Youtube non ci provare Non mi buttare giusto video Non anche questo video Perlomeno Rubeus 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 È un cattivo secondario Che secondo me Ci sta Ci sta Ovviamente le posizioni Che sto mettendo Sono un po' temporane Infatti questa L'ho già sposta da qua Perché Mi sto rendendo conto Che forse A quelli presaggici Sono un po' bassini Rubeus Sa fare il suo lavoro È un manipolatore Un po' Come lui Come Naimond Ma forse è anche peggio Alla fine Forse Ti fa pensare Oh Si sta Potrebbe Redimersi anche lui Oh La sua nave è esplosa Oh è morto Non hai catturato Sailor Moon Nelle guerrieri Sailor E ti sei fatto sfuggire Il coniglio Vuoi continuare A vivere Nella vergogna Non è meglio Farla finita Piuttosto che portare Questa macchia In pelegne Nella nostra famiglia Gli incapaci come te Sono ritenuti Un disonore Perché poi ti lamenti Che ti chiamano puttana E niente È stato un flusso Di pensieri Molto Molto corto La cosa che più piace Per presso di sta serie Che tu dici Non è che è brutta Fin dall'inizio No Ha delle idee Anche abbastanza interessanti Però Se sono realizzate Con i piedi Come Alcuni Alcuni casi Mi girano parecchio Oddio lui Oddio lui Me lo ricordo Lui mi ha sempre inquietato Cioè Sto psicopatico Si porta in giro Una foto di Di Ami E Sono l'unico Che la trovo inquietante Come cosa È apparso in due episodi Però al contrario Degli altri personaggi Non l'ho messo in esiste Perché ha una personalità Lo so incredibile In questa serie Qualcuno che ha una personalità C Però mi è piaciuto tantissimo Che Quando un cantivo Gli viene De faccia Lui Non è che Prova a lottare Lui da solo Che è debole Dice No Io con voi Non ci vengo Con voi c'è Vuoi dire con questo Voglio dire che Non mi catturerai Facilmente Aiuto Aiutatemi Un ladro Aiuto Non è vero Non è vero Non è possibile Frutto farabutto È un genio È un genio Psicopatico Ma un genio Oh E finalmente Non me ne frega niente Di quello che diranno Gli altri Per me Questo personaggio È da vuti massimi L'unico sveglio Del gruppo Mi ricorda qualcuno Anche il mio colore preferito Che il blu Mi ricorda qualcuno E soprattutto Sapphire cattivo Ma ha avuto Una bella retenzione Credibile Ancora più credibile Di Koan Perché non è che Passa dalla parte Dei buoni Perché è sbagliato Essere malvagi No Perché ha capito che Tra i due mali minori Bisogna scegliere Quello minore E se stare dal nemesis Era un problema Abbastanza grave Era meglio Passare dall'altra parte Mi piacciono anche Le relazioni con Diamond Bello perché Alla fine È un amore fraterno Onesto Che farà riflettere Anche il personaggio Manda avanti la trama Mi dispiace che Non abbia mai Combattuto Veramente L'unica magia che ho usato Sono il trasporto E basta Se non sbaglio Ma può essere Perché lui È intelligente E si rifà La sua mancanza di poteri Con l'intelligenza Me lo sto inventando Adesso in testa Per dare una spiegazione Ma Se è così Tanta roba Poi in Crystal Ho visto che È diventato braccia strani Non L'ho perso interesse Perché mi hanno Completamente rovinato Il personaggio Oh mio dio Questo mi farà odiare Da un sacco di gente Seiya Lui Lei Seiya Ti sei un luna Lei non so più come definirti Ormai È una delle starlight So che Un sacco di gente Lo odia Ma io non ce la posso fare Per me È Uno dei Top 12 personaggi Migliori Perché secondo me È veramente Scritto bene È uno degli unici Maschi Caridipidi Insieme a Il gatto E altri due Che arriveranno E soprattutto La sua relazione Con Usagi È un po' Lui è il cassa di copertura Certo amore della serie Stavolta È stato Quasi Normale Perché sembrava Quasi come due persone Normali che parlavano Niente Mi piace ballare Oh Oh Seiya Va tutto bene Non devi aver paura Che strana sensazione Sento i battiti Del suo cuore Si innamora tranquillamente Passano il tempo insieme Come farebbe una persona Normale Verranno storpia della cosa Per fare cose Strame Amorose Come hanno fatto Con tipo Tutti gli altri personaggi E ci sta Peccato però Che verrà massacrato Insieme agli altri E cosa La Regina Non sarebbe Regina Sireniki In teoria È Usagi Quando si trasforma In Pseudo-Regina Non so come si chiama Esattamente Quando recupera il vestito Mi dispiace Che non le abbiano Messe i capelli bianchi La metto in C Ma soltanto perché Non ha i capelli bianchi E perché questo potere Non è Ricomporso più di tanto Non almeno In modo utile L'avessero messo I capelli bianchi E fossi tornato Qualche altra volta In modo utile Subito L'avrei messo Molto Molto in alto Oddio Pluto 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 Che santissimo Pluto A uno Poi dispiace Quando uno Crea un personaggio Che può anche essere interessante Questa donna Affetta dalla solitudine Per tutta la sua vita Che era segregata In questo luogo Disabilato da anima viva A dover controllare Qualcosa che alla fine Non è massimo in pericolo Doveva spingere Molto di più Su questo fattore Solitudine E mi sarebbe piaciuto Se avessimo visto Più momenti Pluto Chibiosa Anche dopo la seconda serie Perché Non è che Se è felice La storia Con il cattivo Allora Deve scomparire La relazione Che avevano E' molto E' un po' di design Sprecatissimo Poteva dare di più Poteva dare di più Pure lei Mannaggia Il design però è figo Il design ci sta Forse anche il PDC Ma la metto in B Ma la famiglia naturale Di Usagi Ce l'hai detto Di far parte Della famiglia reale Perché in teoria È la sua famiglia Taiki Ciao Taiki Mi ricordavo di te Non vi fa né caldo Nè freddo Però Non è che sia tutto Sto personaggio Soprattutto perché Se in un episodio Ti rifiuti di fare la foto Con la tua fan Ammalata terminale Diciamo che Non prendi proprio Le simpatie del pubblico Ecco Avesse avuto motivazioni valide Poi devo capirlo Ma Non farò perché Non vuoi essere usato Dai tuoi fan Questo non si chiama Essere usato Dai tuoi fan Questo si chiama Make a week fan nation No no Trovate il tuo nome Mi dispiace Dovrebbe essere in teoria L'ultima Delle cattive Secondarie Minori Della quinta serie Questa è la versione Con Oddio Con un Nel tre Mi braccialetti Quindi Totalmente controllata Da Sailor Cosmos E qui Con Un solo braccialetto Che vuol dire Che una parte di lei Sta cercando di tornare Ma Cosmos Non glielo permette Quindi è Bipolare È reso bene? Giudicate voi Mi è piaciuta l'idea Quindi lo metto in T Ma Niente di che E che Stanno perché Parte 5 Alla fine Mi è piaciuta Ma Soltanto per Seiya Non ci fosse stato Voi Stava subito Giù Giù Molto più giù Tra le serie Che mi sono piaciuti Di più Porco cane Non l'ho salvata Finalmente Dopo 28 anni Li ho rimessi Tutti a posto L'unica cosa Che ho cambiato È che Adesso Enei Allora Andiamo avanti Il Dottor Tomoe Ce ne sono due Ma penso che Uno sia quello Controllato L'altro Sia quello normale Eh questo è difficile Perché Come villain Era diverso Degli altri Era Completamente malato Non c'era un momento In cui era normale Tranne quando Non era controllato E secondo me Ci sta Ci sta parecchio Che alla fine Non era altro Che un buon padre Che voleva Aiutare la figlia E defino un po' Della verda È stato un buon padre Fino alla fine Una bella Ehm Questo Mi ero dimenticato Di metterla Da qualche parte Eh sì Credo sia l'albero Allora Sia l'albero Io do una bella Di Noi Abbiamo adesso Ubaldo Mamma mia Ma subito Guarda No vabbè A parte gli scherzi Dove lo dovrei mettere? Perché per il me Me lo posso anche mettere A Triple S Però Non lo so Se dovessi rincarlo Seriamente Dovrei metterlo Probabilmente In basso Forse anche No Più in basso di Mina No Che non riesco neanche a ritrovare Eccola Però la metterei Più o meno al suo pari Ha avuto dei suoi momenti Soprattutto Comici È stato Milord Anche più utile di Milord Quindi Bambini No si scherza Non ha avuto Molta importanza Dopo la seconda Serie mi pare Dove smettono Provo di comparire I loro due È un peccato Perché secondo me Potevano rendere Molto di più Non dico che Devono partecipare Ai combattimenti Perché Onestamente Ci sta mettere Dei personaggi Ogni tanto Che non combattono Ma semplicemente Ti danno Una visione Più normale Del loro mondo Poteva dare Di più Poteva dare Molto di meno Ha dato molto di meno In Crystal Ma tutti hanno dato Molto di meno In Crystal E quindi per questo Lo metto in SSS Perché non me ne frega niente Lo faccio della classifica Ok Questo è un discorso Molto lungo Quindi la metterò Per ultima Per lasciare il tuo Tipo il discorso Anzi Penultima Perché merita Merita di andare Prima di qualcuno Se no poi Poi O so troppo leggero O so troppo cattivo Contro Contro di lei Dipende da come finisco Oh E questo Me lo ricordo Non con l'homo italiano Non con quello giapponese Ma con quello inglese Perché questo Chad In inglese Si chiama Chad E vabbè Io Non faccio battute Perché non serve Lo sappiamo tutti E devo dire Che come personaggio Darei normalmente SS Ma per il meme Perché si chiama Chad E da AAAS E poi devo dire Che ho adorato La sua relazione Con Mars Che L'ho trovata Mille volte meglio Di quella della protagonista E di Metà del cast Si Era sensata C'è chi dice Che non ce n'era bisogno Ma infatti Non era Lei che aveva bisogno Di lui Era lui che aveva bisogno Di lei Era su quello Che si basava La relazione Non troppo realistica Ma neanche troppo Fantasiosa Per me Non era necessaria Ma sono felice Che l'abbiano messa E anche seri Perché no Zirconia Ve lo so ricordato Il nome Uno Ve lo so ricordato Zirconia Che dovuto dare Allora In teoria Lei sarebbe La rappresentazione Di ciò che Nellena Non voleva diventare Non è stato Proprio Ultra Approfondito Ma secondo me Ha dato È stato interessante Soprattutto la scena Dove Nellena È tipo A terra Mezza Mezza E Lecce Zirconia Invece Invece No È qualche Gradino Più In basso Ecco No vabbè Non è da F Però dai L'ho Odiato Questo personaggio Dal Secondo momento In cui L'hanno Fatta vedere Era Veramente Il fastidio Fatto personaggio A parte Che ha cercato Di ammazzare Uno dei miei Feriti Che non ti mette Proprio All'amassino Del tuo carisma Ecco Porca Eva Sembra che Il suo unico scopo A un certo punto Sia andare Contro la protagonista E ha generato Un sacco Di momenti Che sono Veramente Una cosa Che non Voglio più Rivedere A parte Che credo Che quell'episodio Fosse Una Cittazione A Naruto Ma va bene Ho detestato Quando hanno fatto Vedere Il suo Passato Che si è Editato In Oh no Queste Dizia Che nemmeno Conosco In pericolo A caso Prenderò Il potere Di trasformarmi E la Salverò Ok Convinta Te E nelle sue Riccarazioni Passate Non c'era Neanche Il fattore Solitudine Di Pluto Era proprio Sono stronzia Basta E Il mio passato Non esiste Ho passato Un po' di tempo Su Urano Un bel posto Basta Un altro Dei motivi Per cui Lei di merita Visita Le facili E E che Oltre a Otaro Che è uno Dei miei personaggi Preferiti Uno di quelli Scritti Un po' Meglio Se l'ha anche Presa A un certo Punto Cosseglia Che è un altro Dei personaggi Per me Che erano Più belli E quindi Non ti hanno Presentato bene Con gli altri Magari Puoi piacere E lo posso Anche capire Con me No Probabilmente La gente Starà Lanciando Sedi Della finestra Ma Questa Era l'opinione E non la Cambierà mai Nessuno Forse In cristal Mi ha salito Un pochetto Perché C'erano Meno momenti Dove Sembrava Che volesse A tutti i costi Andare contro La protagonista Ma E parlando Di protagonista Eccola qui Allora Usagi Usagi Io ti dico A Per Usagi Perché Perché Poteva dare Di più Con un po' Tutti i personaggi Alla fine Non è che fossero Tutti Un po' Tutto questo Grandissimo Level di profondità A parte qualcuno E' un buon Personaggio interessante Anche se è un po' Uno stereotipo Di personaggi Semile a lei Che piangono Un po' Troppo Eccetera Ma In teoria Sarebbero nati Da qui Quindi glielo posso Anche concedere Cioè questo è il periodo Dove è nato Dove sono nati Questi stereotipi Mi piace anche l'idea Che non so se sia vera O falsa Però credo sia vera Dove L'hanno fatta Passione nel cibo Un po' Tipo Tipo Goku Per farvi capire Perché in quel periodo Vediamo se mi ricordo C'era un Siano elevatissimi Casi di Anniversia Tra le ragazze Forse non dovrei dire Eroina Perché può suonare Molto male La tua Eroe al femminile Ecco Forse anche in S No non credo in S Ci sta A E' abbastanza Perché nella prima serie Irritante Ma deve essere irritante Perché E' ancora Immatura Poi c'è l'evoluzione Del personaggio E dopo l'evoluzione Del personaggio Verso la Terza Dopo la terza serie Ecco Dalla quarta Fino alla quinta Io mi aspettavo Che ci fosse più L'evoluzione effettiva Verso la Regina Della luna La nuova Regina Serenity No A parte che Mi hanno messo Alive con la seconda serie Quando ho visto La Regina Serenity Del futuro Mi stanno mischiando Le timeline Prima un po' Impazzirò Con tutte ste storie Già con Dragoball Se poi Ci metti Che dalla prima serie In realtà Che aspettavo Che venisse incoronata E tu Non me la fai vedere Mai che si incorona Allora Ci rimango male Perché secondo me E' stata Evoluta più come Guerriera Sailor Che come principessa Vero e propria E per me no Non ci sta Non ci sta proprio per niente Magari Forse non doveva essere Tanto un Una Parte della quinta serie Ma forse più Un film Uno speciale Qualcosa Che avveniva dopo La quinta serie No Dove ti fanno vedere Magari il matrimonio Tra lei e Moru Anche se a me Non me ne fregava niente Perché Come ho già detto prima Seiya per me è stato Un personaggio molto più interessante Di Mamoru E poi già mi immagino La gente che fa E ma non ti piacciono Le cose romantiche Perché sei un maschio No La mia parte preferita In Berserk E se per tutti Come Berserk E la parte romantica Tra Gatsu E Casca Perché Racconta veramente bene Le loro vite Perché non c'è Soltanto il Ti amo Cioè si c'è Teoricamente Ma come tu lo spiego Leggi di Berserk Qua invece è stato Un po' troppo Usagi Attaccata con la colla vinilica Mentre invece con sei Ho avuto Più Impressione Che si stesse andando Da qualche parte Almeno come persona Cioè alla fine Cioè alla fine Cioè alla fine erano Sono ragazzini 15 anni Anche se sei Da quel che ho capito Ne ha 14 Non ho capito bene L'età Però sono ragazzini Quindi è normale Che si scherzi Se si rida Quindi si Avrebbe voluto far vedere Anche più Un'evoluzione Come Regina della luna Ci sarebbe stato Molto di più A parte che Non ho capito Se nella quinta serie Muore o no Quando lo leggerò O uscirà La quinta serie Potrò giudicarla A tutti gli effetti Quindi per adesso è A Poi magari può anche cambiare E infine Abbiamo Questo personaggio qui Che si chiama Marta Nella versione italiana E nella versione giapponese Non mi ricordo Non ho neanche voglia Di controllare Guarda Allora Alcune persone La metterebbero In Sss Infatti se andassi Su View Community Rank Che sarebbe Quello che hanno fatto Le altri della community E' messa in Triple S Insieme a Lei per qualche ragione E Occhio di pesce Va bene Ho notato adesso Che hanno messo Questi due in Sss Perché Ci puesta Ubaldi Allora no Non ci siamo capiti No no Come ti permetti Di mettere Yuri in B Allora Non ci siamo capiti eh Porca troia No no Metti su Metti su Metti su Allora A parte non essere andato D'accordo con Alcune cose Della community So che ha fatto Una spaccatura Sto personaggio C'è gente che dice Che va di Nel voto massimo E poi c'è gente che dice Che va di In F Nella parte più bassa E non concordo Con nessuno dei due Era un personaggio Che secondo me È stato proprio Mal trattato Da Da tutti Autrice Autori dell'anime Tutti Io ho una lista Mentale Di cose sbagliate Che ha fatto Questo personaggio A parte che è una copia Della protagonista Guardate Già D'aspetto Sono uguali Poi A livello di carattere Sono troppo Uguali Non Sì Proprio Quasi uguali A parte Lievissime Differenze Forse si nota Di più Verso la quarta Quinta serie Perché lei Matura un po' di più Mentre lei Ti fanno vedere Alcuni aspetti Che mi hanno fatto Tirare Di stati muri Ma proprio Lo spigolo Del muro Dove fa più male Anche se in teoria Dovrebbe essere Il contrario Perché se l'orvo Uscito prima Però capite Cosa intendo Io ho visto Prima la serie Animata Come tipo tutti Quindi posso dire Che per me È stato più Il contrario Nella prima serie Ha qualche piccola Utilità Diciamo che non Mi è mai piaciuto Come l'hanno resa Sia in Crystal Che nella serie Classica Perché l'entrata In scena Che fa nel manga È tipo Gesù sceso in terra E in teoria Sì è Gesù sceso in terra La regina della runa Ma Lasciamo stare Ma dopo Dalla seconda in poi Non è che Abbia tutta sutilità Fa da Accompagnatrice Di Usagi Praticamente E poi Nella terza serie Vuole farsi rubare Il cuore dei cattivi Ma perché Tu hai dei problemi Fatti curare E poi Nella Quarta serie Non fa Praticamente nulla Non mi ricordo Se era la quarta O la quinta Dove veramente È arrivato l'episodio Che mi ha fatto dire Basta Sto personaggio Lo detesta a morte Dove c'è Jupiter In realtà anche le altre Ma Non sono importantissime Quello che ci interessa È che ci sia Jupiter Che sta Vivendo la sua vita Sto Tipo Una scuola Per fare alcuni lavori Per lavorare Assieme ai bambini Insomma Quelle cose lì E lei comincia a rompere E lei comincia a rompere il ca- Oh no Il mio orsacchiotto Lasciami Lasciami Marta Hai visto che pandemonio Hai combinato Eh scusa Noi abbiamo lavorato sodo Per organizzare il bazar E dai Non arrabbiarti All'inizio facevo Ah ah Battura divertente Andiamo avanti con la trama Vi scongiuro Poi a un certo punto Mi sono chiesto Ma Perché far Fa così Cioè io ho capito tutto Ma qua stiamo andando Proprio out of character In una maniera assurda Tu bene o male Sei riuscita a fare Quello che volevi Anche se in fondo Il tuo sogno Non era poi tanto Complicato da realizzare Ehi Senti un po' Che cosa stai cercando Di dirmi Che il mio sogno È meno importante Del tuo per caso Beh Dopotutto Oh Ma la smetti Oh ma Tirare una pizza E poi alla fine Mi ricordo che Tipo Jupiter Si scusa No Ma che ti scusi Che ti scusi Dovresti prendere la pizza Ma l'avessero fatto con me Ma via Non ti voglio mai più vedere Ma porco cane Ma cosa vuoi Nella vita degli altri Questi motivi Sono abbastanza Per mettere questo personaggio Non in F Ma un tier In fondo a tutto Soltanto per lei Perfetto Ora siamo tutti d'accordo E chi usa dire Qualcos'altro Chi usa dire Magari il contrario Via Non lo voglio più rivedere Si scherza ovviamente Però Non posso metterlo in alto Veramente L'ho odiato Forse è più una cosa Che andata sul personale A un certo punto E questa È la mega tier list Pazza Sgravata Probabilmente Adesso che ho finito la serie Che ho potuto anche Confrontarmi con altra gente Ho visto alcune spiegazioni Per la quale Un personaggio Era scritto in un certo modo Ho fatto una tier list Del genere Ma Fossi stato Un altro Il caso L'avessi fatta Mentre guardavo la serie E ancora non avevo spiegazioni Da youtuber come Ledefreo Sarebbe andata più o meno così Guarda Tutti In F Tranne Ubaldo Perché Ubaldo Mi sa simpatico E Yuri La storia di come sia nato Questo anime È stato un disastro colossale Io ancora devo capire Perché Piaccia così tanto Alla gente Ma Forse un giorno Non lo capirò Guarda 10 Aprile 2022 Sto registrando Questo video L'ho registrato Quello che avete appena visto Nel 25 22 Anzi Perché L'ho diviso in due parti 22 febbraio E non ce la faccio più Sono Due mesi Di fila E continuo a ditare Sto video di merda È durato Troppo Quindi siccome Sei arrivato fin qui E scusa per la qualità terribile Ma vado anche di fretta Perché È un periodo Veramente con troppe cose Voglio premerti Con una bella notizia Tra poco Chiudo tutta Baracca e Burattini Sì Questa roba Questo canale Chiuderà finalmente Non ce la facevo più Perché c'è troppa roba Io non ce la faccio più Però Posso dirti Che farò alcune cose interessanti Da qua in poi Il mio ultimo requiem I miei sette requiem Anche di più probabilmente Prima di chiudere tutto quanto Per dire le ultime opinioni Non penso che sparirò da internet Mi piacerebbe anche creare un fumetto In futuro O magari Provare a fare qualcosa di diverso Nella mia vita Con meno impegno Perché chiaramente Non posso mettere così tanto impegno Per video Perché devo comunque Sono studenti Che Voglio puntare anche all'università Possibilmente a cose un po' più grandi Perché è bello Fare video su youtube Sì Ma purtroppo non paga Non paga per niente Non c'è niente che possa pagarmi Quindi mi dispiace Ma Chiuderò tutto quanto E questo sarà uno Degli ultimi video Prima dei Dei requiem finali E quindi ciao Grazie per essere arrivato Fino a questo punto Se ci sei arrivato Ma tanto Che cazzo se lo vedi Uno era E 3 di video Miei tra l'altro E ci si vede In un prossimo video Adio